Che cos'è l'ASP? Commento. È la sigla dell'Associazione Subacquea Portatori di Handicap, che si prefigge lo scopo di diffondere e insegnare l'attività subacquea fra i portatori di handicap. Paraplegici, poliomielitici e non vedenti frequentano con successo questi particolari corsi tenuti da istruttori specializzati. I corsi sono organizzati in tutta Italia e sono gratuiti. Gli ideatori di queste associazioni vivono invariabilmente un vasto sentire. Grazie a tutti.